Buongiorno Davido, oggi 15 febbraio, vorrei fare una puntata del podcastone interamente dedicata a Linux o alle notizie intorno a Linux. Però prima una breaking news che vi do così al volo ed è questa, uno dei creatori originali del progetto Nginx, che conoscerete, Nginx è praticamente il web server più usato, più famoso del mondo, un progetto open source che c'è da diversi anni. Ecco, uno dei creatori originali, dicevo, che si chiama Maxim Dounin, che sta a Mosca, ha deciso di forcare il progetto Nginx e l'ha chiamato Free Nginx. Questo perché? Perché la compagnia americana F5 che aveva acquisito il progetto Nginx era stata poi costretta nel 2022 a chiudere gli uffici di Mosca dove lavorava appunto Dounin. Dopo la chiusura degli uffici anche lui aveva perso il suo lavoro, ma in accordo con F5 aveva continuato a lavorare come volontario, gratuito, al progetto Nginx. Ma adesso, sempre F5, ha deciso di fare a meno, insomma, dei suoi servigi e di portare avanti lo sviluppo del progetto Nginx in autonomia, insomma, dandogli una propria direzione, direzione non particolarmente condivisa dallo sviluppatore, da Maxim Dounin, il quale quindi ha deciso di lanciare questo fork. Questo fork quindi lo trovate su freenginx.org, adesso non è ancora, cioè non c'è niente, praticamente tutto quello che trovate è semplicemente una copia della documentazione di Nginx e anche del sito stesso originale di Nginx con una specie di logo Free Nginx disegnato a mano, però ecco, la prima versione di Free Nginx sarà il fork, il clone dell'ultima versione di Nginx e da qua poi il progetto andrà avanti per conto suo. Non ci sono altre informazioni per adesso, quindi non sappiamo dove sarà il repository, quale sarà la licenza banalmente di questo progetto, però insomma, intanto vi do questa news che potrebbe rappresentare un piccolo scossone nel mondo del cloud, dei web server e intanto seguiremo un po' come evolverà la vicenda, magari porterà a qualcosa di utile, quindi l'ho buttata lì perché secondo me poi ci costruiremo sopra qualcosa nei prossimi mesi. Basta, news su Linux, partiamo! Allora, la prima riguarda il mondo Asahi Linux. Per chi non lo conoscesse, Asahi Linux è un progetto che vuole portare Linux sui Mac, proprio sui MacBook, sui sistemi di Apple, su M1, M2, anche sulla nuova, diciamo, ondata di M3. Ebbene, qual è la notizia che tra l'altro è proprio freschissima perché è di ieri? Che il team di Asahi Linux è riuscita a creare dei driver per OpenGL che supportano una versione di OpenGL più avanzata, più recente, di quella ufficialmente supportata da macOS. Quindi sono riusciti a sfruttare delle caratteristiche del GPU dei Mac che neanche Apple vuole sfruttare. Naturalmente Apple non vuole anche per delle ragioni commerciali, nel senso che Apple ha dei propri driver grafici e quindi ha deciso di lasciare il supporto a OpenGL, è una versione piuttosto vecchia, non procedere con quello sviluppo e invece andare avanti con i suoi driver. Bene, il team di Asahi è riuscito a creare dei driver che supportano le versioni decente anche andando oltre delle limitazioni delle GPU, quindi delle limitazioni hardware. La versione attualmente supportata da Asahi Linux è la versione 4.6 di OpenGL e la 3.2 di OpenGL ES, che sono le versioni più recenti di queste API. Mentre il supporto ufficiale di macOS, da parte di Apple, si ferma a OpenGL 4.1 che è la versione del 2010. Quindi Alissa Rosenweg ha scritto un blog post molto dettagliato, poi ve lo lascerò nei link, che annuncia questo driver che adesso è ancora in una fase di test, dovrà superare oltre 100.000 test, dice, per essere dichiarato, insomma, ufficiale per la produzione. Però, appunto, spiega anche come hanno fatto ad andare a superare delle limitazioni dell'hardware e dice, per esempio, l'M1 non riesce a mappare tutti gli standard introdotti dopo OpenGL ES 3.1 e non si va oltre il feature set di 4.1. Quindi, come abbiamo fatto a superare le limitazioni dell'hardware? Beh, abbiamo dovuto fare Geometry Shader, Tessellation e Transform Feedback. Ecco, tutte queste cose che dovrebbero essere supportate dall'Instruction Set dell'hardware, le hanno fatte attraverso dei Compute Shader. Quindi hanno scritto dei codici, hanno fatto qualcosa che è creato lato software, non lato hardware. Non solo per questo, poi la lista va avanti e, insomma, nel blog post lo troverete in modo più dettagliato. E in tutto questo c'è anche il lavoro per supportare l'API Vulkan, anche queste non supportate degnamente, insomma, da macOS, che invece, come vi dicevo, investe nelle proprie API che si chiamano Metal. E che cosa comporta poi questo lavoro? Comporta il fatto che ora, con le versioni recenti di OpenGL, c'è lo sblocco di tutta una serie di software che prima non potevano funzionare come Blender, per esempio, ma anche di API nuove e interessanti come quelle di Valve, le Proton, che consentono di far girare un po' di videogiochi, insomma, scritte per Windows X86, ecco, e farle girare anche su Asahi per macOS. Quindi, insomma, la distribuzione che oggi è più solida, insomma, in questo mondo di Asahi è Fedora, Asahi Remix, che supporta, praticamente, un sacco di hardware sui Mac M1 e M2, tipo la webcam, gli speaker, Wi-Fi, Bluetooth, e, ovviamente, l'accelerazione grafica. Ci sono ancora delle cose che non funzionano perfettamente, come Thunderbolt, oppure i display via USB-C, anche il microfono integrato nei laptop ancora non funziona, il sensore delle impronte digitali Touch ID non è ancora funzionante, insomma, su queste c'è tutto un lavoro che sta procedendo, tra l'altro tutto questo senza il supporto di Apple, quindi immaginate che bordello di reverse engineering bisogna fare per cercare di andare a supportare anche questo hardware, ed è anche incredibile, tra l'altro questa cosa l'aveva segnalata, mi sembra, Riccardo Palombo, è incredibile che Apple non intervenga per bloccare questi lavori, Apple così protettiva nei confronti del suo software e del suo hardware, ecco, non interviene per bloccare queste lavorazioni che stanno rendendo effettivamente Linux usabile sui Mac, cosa che sta facendo anche Linus Torvalds, che ha, insomma, mostrato di utilizzare Asahi sui propri Mac. Insomma, questo per quanto riguarda l'aggiornamento su Asahi Linux con il supporto OpenGL, un progetto che consiglio assolutamente di tenere d'occhio, perché spacca di brutto. E poi una notizia nostalgica, per noi nostalgici, qualcuno si ricorderà di DEM Small Linux, una distribuzione DSL, una distribuzione che non si sentiva da più di 10 anni, anzi, in particolare da 12 anni. 12 anni fa è la data dell'ultima point release di DEM Small Linux, era la 4.11 ed era il 2012, però se noi ci atteniamo alle major release, DEM Small Linux 4 è stata rilasciata nel 2007, ed è l'ultima major, quindi, insomma, 17 anni fa. È 17 anni che non vediamo nulla di questa distribuzione, e oggi è stata annunciata una nuova versione. DEM Small Linux, per chi se la ricorda, era quella distribuzione talmente piccola da stare su un mini CD, cioè un CD-ROM di quelli piccolissimi porzioni di CD-ROM, ecco, stava tutto lì, ed era usata appunto per ridare vita a qualche vecchio PC che non funzionava, per poi cercare di recuperarle in qualche modo. La nuova versione di DEM Small Linux non è così piccola, naturalmente, ma può stare effettivamente su un singolo CD-ROM, perché la release iniziale è di 681 MB, e si basa su un'altra distribuzione che è Antix, che è una distribuzione basata su Debian, che utilizza Runit come Init System. Quindi, insomma, siamo lontani dai 50 MB dell'edizione originale della distribuzione DEM Small Linux, però, insomma, in confronto alle distribuzioni moderne di Linux, che sapete, sono esplose, no? Come tutto il software in generale sono esplosi, tutto è più grande, che non è necessariamente più bello, ma, insomma, riuscire comunque a stare su un singolo CD-ROM è un bel traguardo. Tra l'altro vi riporto una piccola nota storica sullo sviluppo di questa versione di DEM Small Linux, che è creata dal creatore originale di DSL, che è John Andrews, ma originariamente le prime DEM Small Linux erano create da John Andrews e da un altro sviluppatore, che è Robert Shingledecker. Ma questi due poi hanno litigato, praticamente, e si sono separati. E da quel momento, quindi, poi, lo sviluppo di DSL non è più andato avanti fino a oggi. Shingledecker è il creatore di un'altra distribuzione Linux molto piccola, che si chiama Tiny Core Linux. Quindi, ecco, entrambi sono rimasti con la passione per creare distribuzioni molto piccole, insomma. E cosa troverete in DEM Small Linux? Nella nuova DEM Small Linux potete, per esempio, scegliere tra due Windows Manager. Uno è Fluxbox e l'altro è JWM. Poi potete anche scegliere tra web browser molto piccoli, molto minimali, ecco. Una è Bedwolf, che può far girare anche JavaScript. L'altro, invece, è Dillo, che non può nemmeno far girare JavaScript. Insomma, tutto nell'ottica della massima piccolezza. c'è anche una selezione, insomma, di software minimali, però che vi permetterebbero di far girare la suite, insomma, per la produttività dell'ufficio, insomma, media player, text editor, eccetera. Quindi, una volta installata DSL 2024, l'occupazione totale del disco sarà di 3,3 GB, e il consumo di RAM, invece, sarà di 270 MB, che, insomma, rispetto alla distribuzione attuale nel mondo Linux, è effettivamente molto, molto piccola. Inoltre, basandosi su una distribuzione che si basa solo su Debian, avrà a disposizione il comando apt per poi installare tutto il resto del software che vi piace. Ed ora un paio di news che riguardano soprattutto le foundation intorno al mondo Linux. Una ce la dà il blog di OpenSSF, che è la Open Source Security Foundation, che è un progetto all'interno della Linux Foundation, ecco, che però si occupa della sicurezza dell'open source. Bene, qua, questo blog post ci dà una notizia molto interessante, cioè che ora il Linux Kernel è effettivamente una CNA. Che cos'è una CNA? È una CVE, quindi CVE, Numbering Authority. Quindi è un ente, un soggetto, che può rilasciare CVE, numeri di CVE, cioè quindi può certificare, può creare, ecco, delle CVE. Le CVE sapete che sono quelle, le vulnerabilità critiche, no? Sono quegli elenchi di vulnerabilità critiche che hanno i software. E essere una CNA, quindi un ente che può emettere CVE, vuol dire avere pieno controllo in come queste CVE vengono emesse, nel numero che gli viene assegnato, anche nella disclosure che viene fatta all'interno di queste CVE, magari anche limitare il volume di informazioni che vengono tracciate da questa CVE per impedire di sfruttare alcune falle di security che potrebbero essere pericolose, ecco, da divulgare. Tra l'altro diventare una CNA è un processo che qualunque organizzazione dell'open source può intraprendere. E c'è una guida proprio scritta da OpenSSF su come diventare una CNA, quindi un'emettitrice di CVE. Questa guida è stata rilasciata nel progetto Alpha Omega, che è un progetto di OpenSSF che mira proprio a migliorare la sicurezza dell'open source. Non vi sto a dare i dettagli, però insomma, se andate a seguire OpenSSF, trovate tutti i dettagli sull'iniziativa Alpha Omega, che è una delle ultime, insomma, che riguarda l'irrobustimento della sicurezza nel mondo open source. Inoltre, se siete interessati alle dinamiche delle security, delle CVE, anche e soprattutto ai metadati inclusi nelle CVE, come vengono tracciate, come vengono, ecco, divulgate al pubblico, c'è un working group all'interno di OpenSSF che si chiama Vulnerability Disclosures. In questo working group si discutono vari progetti appunto attorno alla disclosure delle vulnerabilità. Uno, per esempio, è OpenSource Vulnerability Schema e l'altro è OpenVex, che è un formato di elenco di vulnerabilità note e exploitabili, quindi sfruttabili, all'interno di un software. Quindi vedetelo come se fosse una versione vulnerabilità note di un SBOM, quindi di un elenco di dipendenza di un software. E l'altra news invece riguarda Linux Foundation, che ha appena annunciato la creazione di una nuova alliance, questa volta per andare a sviluppare software, tool, algoritmi nella cosiddetta post-quantum cryptography, quindi per irrobustire gli algoritmi di sicurezza e per cercare di creare dei nuovi algoritmi che resistano agli attacchi quantistici, che sapete che tutti gli avanzamenti nella creazione di computer quantistici mettono a rischio gli algoritmi, diciamo, tradizionali, ecco, perché riescono a romperli molto più facilmente. Quindi tutte le maggiori aziende del mondo stanno lavorando per cercare di rendere questi algoritmi più sicuri, più resistenti in un mondo post-quantum, così viene definito, cioè quando i computer quantistici davvero entreranno alla portata delle, almeno delle grandi aziende, ecco, e Linux Foundation ha deciso di creare questa alleanza per mettere insieme questi esperti e queste aziende e cercare di irrobustire, insomma, l'approccio. L'alleanza si chiama Post-Quantum Cryptography Alliance, quindi PQCA, e, insomma, come vi immaginate, include alcune delle più grandi aziende del settore, quindi IBM, Cisco, Google, Nvidia, eccetera. Sono queste che ci lavoreranno più da vicino. Ci sono due progetti in particolare, uno è Open Quantum Safe, che vuole portare alla transizione degli algoritmi correnti criptografici verso il Post-Quantum, insomma, verso una criptografia resistente alla computer quantistico, e l'altro, invece, è PQ Code Package, che vuole cercare di definire degli standard per implementare, appunto, questi algoritmi resistenti alla criptografia Post-Quantum, ecco. Quindi, questo per ora è quello che volevo dirvi, poi seguiremo un po' da vicino quello che succederà in questa Alliance, quindi se ci saranno altre news, poi ve le butterò qua nei prossimi. Buongiornissimi! E infine, ultima news riguarda Nix, o meglio, riguarda un progetto di startup, quindi un progetto commerciale, che vuole costruire qualcosa attorno a Nix, cioè vuole fare quello che Docker ha fatto con i container, cercare di semplificare l'uso di Nix, in modo da renderlo attuabile, usabile anche a un mondo enterprise, che richiede, insomma, facilità di utilizzo, uno sviluppo centralizzato, e, insomma, anche un po' di software costruiti attorno, come interfacce grafiche, oppure, ecco, gestori in cloud, dei servizi in cloud per gestire queste cose. O che cos'è Nix? Nix è un gestore di pacchetti, praticamente, creato all'interno di un progetto di ricerca, che è diventato una distribuzione Linux, che si chiama NixOS, e che usa, appunto, questo gestore di pacchetti, che ha la particolarità di creare dei software portabili, isolati e riproducibili, quindi delle build che includano le dipendenze, anche dei pacchetti, che siano isolate e riproducibili. Questo ricorda un po' quello che fanno i container, no? E, infatti, è un parallelo che ci sta, è un parallelo tra, appunto, creare un'applicazione e infilarla in un bundle Nix, come creare un'applicazione e infilarla, invece, in un container. Poi, i due approcci hanno, ovviamente, le differenze, soprattutto a livello di come il sistema operativo, poi, ci dialoga, insomma, con questi due, come poi si configura, naturalmente, in modo diverso. Però, insomma, il concetto potrebbe essere quello, quindi creare delle applicazioni, che siano tutte riproducibili con le intere loro dipendenze e poi replicabili, ecco, su altre macchine isolate un po' dal contesto del sistema. Questo è un po' Nix e, tra l'altro, è un progetto che ha molto successo nel mondo open source. Infatti, nell'ultimo Octoverse GitHub ha reso noto che Nix è praticamente il quinto progetto open source per numero di contributor nell'ultimo anno. Viene dopo Linux, React, Kubernetes e PyTorch. Quindi, dopo c'è Nix, quindi è un progetto davvero molto, molto seguito, a cui c'è molta contribuzione. Anche la CNCF, la Cloud Native Computer Foundation, ha rivelato, appunto, che Nix, nell'ultimo anno, ha più commit rispetto a Kubernetes. Quindi, insomma, per darvi anche un'idea della scala di questo progetto. Bene, ma quindi, qual è la notizia? Che questa startup vuole creare un software che si chiama Flux, di cui magari sentiremo parlare un po' nei prossimi mesi, quindi, boh, ci prepariamo. Ecco, Flux vuole costruire un software usabile, più usabile dagli utenti e dalle aziende, ecco, attorno ai pacchetti Nix. Quindi, un'alternativa a Docker, per fare bundle e distribuzione di applicazioni, insomma, in modo da rendere Nix anche appetibile al mercato enterprise. In marzo avremo la prima release della CLI, quindi della command line interface, e poi dei repository, da cui naturalmente sarà possibile installare pacchetti Flux, che poi alla fine saranno pacchetti Nix, però gestiti da Flux, perché Nix tra l'altro ha una gestione un po' peculiare, no, della configurazione dei pacchetti, c'ha un suo linguaggio che consente di configurarlo, che non è molto user-friendly, diciamo così, quindi Flux vuole semplificare questa gestione, quindi metterà a disposizione questo repository, e poi dei servizi correlati, accessibili da command line, oppure da un'interfaccia grafica, che invece arriverà più avanti. Per quanto riguarda l'offerta alle aziende, a quanto pare metterà a disposizione la possibilità di creare dei repository privati, con i propri pacchetti, e poi delle feature, diciamo premium, come un'interfaccia web da cui gestirlo, ecco, e queste feature saranno accessibili a pagamento, come un software as a service. Quindi questa è un po' la notizia, Flux costruisce questa infrastruttura per aziende, ma non solo, anche per utenti, che magari non vogliono entrare nei dettagli di come funziona Nix, attorno appunto a questo gestore di pacchetti. Vedremo un po' cosa succederà, ma intanto noi siamo preparati. Flux, eh? Nix per l'Enterprise. Vi lascio due link velocissimi, visto che si parla di Linux, non ci discostiamo. Il primo si intitola The Land Before Linux, Let's Talk About the Unix Desktops. È un articolo di opinione, anzi un po' di storia, diciamo, che è apparso su The Register. Vi lascerò appunto questo link, che parla della storia di Unix, non tanto della storia di Unix dai suoi albori, ma negli anni 90, quando si trovò a un certo punto a competere, anzi, era davanti a Linux come uso, e aveva la possibilità di diventare il sistema di riferimento, ecco, anche al posto di Linux, però poi perse questa battaglia, perché? Per una serie anche di screzzi interni, incomprensioni, ecco, problemi che Linux non aveva, perché naturalmente con il dittatore benevolo Linus Torvald non c'erano di questi problemi, ma anche delle scelte magari sbagliate a livello di gestione, insomma, cosa che portarono, insomma, i sistemi Unix, FreeBSD, eccetera, a sostanzialmente occupare una piccolissima porzione di mercato oggi. Naturalmente c'è un sistema Unix che occupa una grossa parte del mercato, che è Mac OS, però quella è un'altra storia, e comunque negli anni, diciamo, di questa battaglia, non era evidente che Mac OS poi avrebbe trionfato. Comunque, è una storia molto interessante che vi consiglio, the land before Linux, let's talk about the Unix desktops. E l'altro link che vi do, invece, è una paraculata, perché in realtà ve ne ho già parlato, non è niente di nuovo, ma ve lo do perché vi consiglio, se volete andare a spulciare i dettagli dell'implementazione di OpenGL in Asahi Linux, e come hanno fatto a tirar fuori implementazioni software che l'hardware invece non supporta, ecco, vi do il blog post di Alissa Rosenweg, che si intitola Conformant OpenGL 4.6 on the M1. Vi ho letto in italiano i numeri, perché va bene. E questo blog post, insomma, è super dettagliato. Io non ci entro, non provo manco a entrare nei dettagli di questa roba, perché ci sono proprio dettagli implementativi, matematici, su come hanno fatto a superare alcune limitazioni. Comunque, è molto figo vedere queste cose, e leggere queste cose, provate, magari provate a entrare nel dettaglio di alcuni pezzettini di codice e vedere quanto può essere difficoltoso, ecco, andare avanti con uno sviluppo di questo tipo. Pensate, perché questo gruppo lo sta facendo open source e gratuitamente, quindi anche un piccolo ringraziamento, a quello che sta facendo Alissa Rosenweg e il team di Asahi Linux. E dopo ringraziamenti dovuti al team di Asahi, io mi fermo qui, ringrazio anche voi che mi avete seguito anche oggi e continuate a seguire questa rubrichetta, il buongiornissimo che vi tiene compagnia con le tech news, oggi tutto dedicato a Linux, vi do appuntamento magari a domani, però vi dico anche come ultimo consiglietto che oggi, proprio oggi pomeriggio, alle 17, ci sarà una puntata extra, remote, full remote, di Continuous Delivery, podcastone, in cui chiacchiereremo con Federica Nocerino, quindi parleremo di open source, di gaming, lei è una molto addentro al mondo delle community, ecco, quindi sarà una chiacchiera interessante che riguarderà questo, quindi se state seguendo questo buongiornissimo il giorno in cui esce, quindi il 15 febbraio, oggi pomeriggio vi trovate live questa roba, se invece seguite questo nei prossimi giorni, insomma, recuperate anche Continuous Delivery in una puntata che si intitola Non è Francesca. E io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo buongiornone. Ciao! Grazie a tutti!